una buonissima serata a tutti voi ben ritrovati grazie per essere ancora come sempre come ogni sera le 19 puntualissimi qui mi accompagna brevemente vi ricordo il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione ve lo ripeto di nuovo basta scrivere una mail al nostro indirizzo angoli chiocciola espansionetv.it una grande puntata che inizia davvero con un appuntamento importantissimo ce lo raccontano loro i protagonisti è tornato a trovarci quindi ben ritrovato edoardo verzotti ciao anche per noi anche perché quando vi è tu sei sei l'uomo dei pensieri buoni delle cose belle dei pensieri profondi infatti quindi quando sei qui c'è sempre qualcosa di interessante lo ricordo tu sei co-founder di rowing team questa sera non sei da solo quindi saluto e ringrazio per essere qui con noi anche marco ciriliano ciao marco grazie dell'invito grazie a te tu sei presidente della casa di chiara collus esatto allora io partirei subito da te ok quindi di cosa stiamo parlando stiamo parlando di un evento che si terrà 16 di giugno alla schieranna di varese per un'idea che ha avuto edo io lo chiamo così anche se ci conosciamo da due mesi ma è come se ci conoscessimo da vent'anni quindi è un incontro del destino diciamo così da poco tempo ma che subito ha dato un risultato importante assolutamente sì e quindi noi ci siamo incontrati e abbiamo organizzato un evento appunto che si terrà 16 di giugno dal titolo remando con chiara perché remando con chiara chi è chiara chiara è la bimba che ha dato il nome all'associazione la casa di chiara onlus che io ho l'onore di rappresentare io sono il papà di chiara chiara è una bambina che è volata in cielo un paio di anni fa ha lottato combattuto contro una malattia importante del quale ancora oggi non sappiamo il nome e con questo evento vogliamo sicuramente ricordare lei ma in qualche modo lanciare tanti messaggi a favore di tanti bambini che si trovano a dover combattere fin dalla nascita contro patologie o problemi alla salute bene edoardo allora marco ce l'ha già anticipato ci siamo incontrati pochissimo tempo fa ma è nata subito questa bella idea com'è che tu ti sei trovato a fatto trovi sempre affascinato dai principi lo ripeto lo dico perché sei una grande persona in questo caso che cosa ti ha convinto è un'esperienza non uguale ma simile sostanzialmente io ho avuto in questo caso veramente la fortuna di conoscere la storia di chiara tramite la giornalista della provincia di como marilena nualdi che ha scritto il libro l'aria di chiare la farfalla in volo e perché lei ha scritto un pezzo ovviamente su campioni del mondo che aprono una start up e danno vita la rowing team e quant'altro mi ha portato a conoscenza di questa storia perché ovviamente lei divulga nella hollus questa bellissima storia ovviamente leggendo il libro è funzionato un po come terapia rispetto anche a quello che è successo a me e mia moglie nel senso che noi abbiamo due bambini bellissimi un maschio una femmina però per avere due bambini io e mia moglie soprattutto abbiamo affrontato cinque gravidanze quindi per quello diceva una storia abbastanza simile no al di là che comunque due mesi e mezzo di vita fa in tempo a conoscere straconoscere tua figlia no come è successo alla famiglia di di marco è ovvio che lì parte subito un'idea nel senso io ho sempre tenuto non dico nascosto ma ho sempre fatto un po non dava troppo peso fatto di essere stato campione del mondo e quant'altro in questo caso quando poi ho parlato con la giornalista l'autrice del libretto non me ne frega niente nel senso voglio anche fare quello che se la tira un po però è per una buona causa che serve per questo caso si fa certo esattamente quindi è nata subito l'idea di mettere in acqua la famiglia di chiara in una barca da otto parliamo parlando di canottaggio e le abbiamo anche un video che tu puoi insomma commentare per farci capire meglio che cosa stai parlando vediamo se la regia ce lo manda mentre edoardo racconta quindi uscirà in barca diciamo a metà tra la famiglia di chiara e l'equip medica che l'ha seguita perché obiettivamente poi in questi due mesi e mezzo e la forza che ha avuto chiara e di creare attorno a sé un un'associazione in primis una hollus che è partita con delle donazioni spontanee ma ha creato veramente un entusiasmo per la tenacia che questa bambina ha avuto in questi due mesi e mezzo di lottare no quello che vediamo è un'uscita in barca dell'università di Washington quindi a Seattle negli Stati Uniti d'America che quando un un membro dell'università anche se non non studia più obiettivamente perché in questo caso se n'è andata una persona di 60 anni ovviamente essere portato via una brutta malattia una volta che sei parte del team lo sei per sempre questa in sostanza questa è una barca da otto e vedete che rimano in sette e ovviamente simbolicamente il posto vuoto è della persona che non c'è più quello che vogliamo fare noi domenica 16 giugno alla schierana rivarese presso la canottiera rivarese che non smetterò mai di ringraziare perché ci è venuto incontro ci mette a disposizione tutto gratuitamente per tutta la giornata la struttura barca motoscafi ristorante assolutamente assolutamente faremo un po la stessa cosa nel senso che lasceremo un posto libero per chiara e non è una passeggiata sul lago quella domenica perché a questa imbarcazione sarà agganciato un aquilone a forma di farfalla farfalla perché la sembianza che chiara ha preso dopo essere se n'è andata e dopo se vuole marco vi racconta un aneddoto su questo e ovviamente l'equipaggio dovrà fare di meglio poi il meglio possibile perché più velocità prende la barca più questo aquilone starà potrà volare in cielo e stare in alto i messaggi sono davvero tantissimi qui dentro una cosa pazzesca marco qual era l'aneddoto che edoardo voleva tu raccontassi ti va di raccontarlo sì l'ho raccontato poche volte se ti va sì sì l'ho raccontato poche volte ed è passato anche un po di tempo da quando è successo che non abbiamo avuto la fortuna di fare una foto in quattro quando chiara è nata noi abbiamo io e stefania abbiamo un altro figlio andrea di otto anni e mezzo però in pochi giorni la situazione di chiara si era aggravata e quindi è stata ricoverata in ospedale e per quella settimana non non eravamo riusciti a fare una bella foto insieme no quindi abbiamo fatto sicuramente delle foto ma non eravamo riusciti a farne almeno una dove eravamo tutti e quattro a distanza al compimento del suo primo anno è appunto chiara si era in qualche modo già palesata no sotto forma di farfalla in diverse occasioni però in casa una farfalla non era entrata mai fino a quel momento la sera che anticipava il giorno che avrebbe dovuto compiere un anno nel salotto abbiamo notato una farfalla e abbiamo preso quel momento abbiamo fatto un selfie e in quell'occasione siamo riusciti ad avere una foto tutti e quattro e questa è una bellissima cosa perché la foto adesso c'è la foto adesso c'è nostra e quindi perché va bene diciamo che con la città dell'associazione abbiamo tentato di non piangerci addosso rispetto anche al dramma vissuto no come si fa a trovare questa forza perché insomma è una situazione particolare quella che ci stai raccontando certo credo sia inevitabile umano assolutamente sconforto ci sono tuttora e diciamo che si in qualche modo si convive no con questa situazione però dopo ti rendi conto che che devi dargli un significato anche se è difficile trovarlo perché delle risposte che ti possano soddisfare non esistono non esistono risposte che possono determinare un perché perché poi la classica domanda che ti fai no perché è successo e poi da una domanda ne arriva un'altra e continua certo e a queste e a queste domande risposte non ce n'è però io voglio pensare che chiara abbia determinato un passaggio fondamentale per noi e per lei e forse siamo chiamati oggi a fare quello che stiamo facendo e poi ne nascono anche degli incontri incredibili noi andremo a realizzare un evento secondo me meraviglioso che vuole lanciare tantissimi messaggi quindi non sarà un evento finalizzato a raccolta fondi ma vuole essere proprio un evento finalizzato a lanciare un messaggio che è quello di dire la direzione è quella non ce n'è un'altra bisogna andare avanti bisogna anche prendere forza fare fatica magari perché lui come si fa poi quando si sale da campione del mondo insegna che per diventare perché lui sorride sempre serafico sembra che tutto è facile invece no invece no e quindi c'è il messaggio vuole essere quello lanciare questo messaggio poi noi chiaro come associazione godiamo e beneficiamo del buon cuore di tanti che ci danno delle donazioni che poi noi in qualche modo andiamo a riversare evidentemente negli ospedali nelle strutture in maniera concreta no quindi anche nell'ambito della ricerca con il sarafele di milano per gli studi che possono poi aiutare a far sì che le nuove generazioni abbiano delle opportunità in più quindi è la concretezza quello che volete portare avanti per chiudere il cerchio per dire che tutti i tasselli si incastrano alla perfezione per questo che poi si crede che Chiara stia muovendo le sue pelipedine a suo piacimento il dottore Agosti Massimo Agosti che è il professore primario del reparto di terapia intensiva all'ospedale dal Ponte di Varese dove abbiamo fatto la conferenza stampa settimana scorsa lui era un ex vogatore un ex canottiere senza saperlo e quindi le cose poi tornano e addirittura avevamo lo stesso allenatore quando abbiamo cominciato entrambi alla canottiere Milano a remare no? e proprio per forza e quindi se poi le cose accadono così vuol dire che c'è un senso ed è quello che assolutamente va seguito siamo in battuta conclusiva Marco voglio che sia tu a dirlo perché è così importante trasformare dire un dolore mi sembra poco però prendila così sì in questa energia così importante perché bisogna farlo? perché Chiara lo vorrebbe sicuramente io quando è successo chiaramente arrivi anche a dire ma perché Chiara ci fa questo no? cioè arrivi a fartela questa domanda quindi quasi come se avessi una responsabilità o anche tu no? invece io credo che è proprio la voglia di svoltare e quindi la forza la si deve trovare a tutti i costi poi è difficile noi abbiamo adesso una grande responsabilità chiaramente anche con l'associazione no? perché poi umanamente è difficile però penso che la strada più giusta sia questa perché principalmente lo vorrebbe Chiara perché Chiara ci ha insegnato una cosa che cosa? che non bisogna mai smettere di lottare e di vivere noi glielo dicevamo sempre e quindi se ci credi ci credi non puoi stare in una via di mezzo a metà non c'è insomma no cioè se tu vuoi è così altrimenti la via di mezzo non appartiene a noi bene Edoardo ricorda dove, quando e poi ci salutiamo vai allora domenica 16 giugno alla Schiranna di Varese presso la Canottieri Varese quindi vi aspettiamo numerosi perché potete venire e guardare quello che facciamo e perché no comprare anche il libro certo e a Varese poi sono due passi esattamente insomma bisogna andarci diciamo l'orario per non dare sì venite per le 11 perché prima ovviamente dovranno imparare a rimare quindi ci vorrà quell'attimo di tempo bene saluto e ringrazio Edoardo Verzotti e Marco Ciriliano grazie a te grazie ti adoro ma tu questo lo sai è inutile dirlo e anche grazie a te per tutto quello che ci hai detto grazie anche a voi rimanete lì perché tra poco è un'altra storia sempre ad angoli grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te